Agrigento ed Enna in Lizza tra le 16 città che si contendono il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2025. Saranno ben 7 i membri della Commissione, tutti esperti nella gestione dei beni culturali, che decreteranno prima le 10 finaliste e poi bisognerà aspettare gennaio per sapere quale sarà la città vincitrice, che riceverà anche un contributo di un milione di euro. Una competizione che tra bellezza e patrimonio artistico sarà anche un modo per rilanciare turismo ed economia sia per Enna che per Agrigento, che però avranno filo da torcere grazie alle altre concorrenti, ovvero Aosta, Assisi Asti, Bagno Reggio, Reggio Calabria, Lanciano, Monte Sant'Angelo, Orvieto, Otranto, Peccioli, Pescina, Rocca Secca, Spoleto e Sulmona. Non resta che fare il tifo ed attendere incrociando le dita.